Ciao a tutti, allora perdonate lo stato in cui sono ma sono sull'onda del momento come sempre perché io faccio video sull'onda del momento per darvi qualche aggiornamento è una considerazione su qualcosa che sta succedendo in questi giorni allora perdonate lo stato, dicevo, le mie occhiaie ma sapete bene che in questo periodo praticamente io non sto dormendo e così allora ieri Caramella ha fatto il controllo dal neurologo e incrociamo le dita va bene, nel senso che la terapia funziona, ha dei miglioramenti e quindi dobbiamo continuare abbiamo il controllo di nuovo a metà settembre, quindi vedremo come va allora io cerco di mettere il telefono in modo tale che non vi venga il mal di mare vedete la mia coca cola lì che non posso bere io adoro la coca cola, ne bevo litri, non la posso bere perché ho una gastrite in atto dopo un mese di stress come lo sto subendo io è normale sono piena di afte in bocca, cosa che non mi succedeva da mesi, però amen, va bene così allora a parte questi aggiornamenti perché sto facendo questo video sto facendo questo video perché è successa un'altra cosa abbastanza grave da circa non so, saranno un mesetto insomma da quando c'è questa trasmissione sul Rai 2 che si chiama Reality vengono presi di mira youtuber e instagrammer in modo spietato la cosa grave è, non è che si chiede ai creatori di contenuti di prendere parte alla trasmissione per potersi difendere tra virgolette, no difendere tra virgolette, difendere in modo vero e proprio no, si prendono questi video si estrapolano dal contesto in cui sono messi e si fa un video sputtanamento cioè si fa un servizio sputtanamento in cui gli ospiti in studio fanno body shaming bullismo nei confronti di persone che sono su youtube per esempio crocchetta una ragazza che è su youtube una ragazza in carne che è su youtube le hanno fatto body shaming in modo vergognoso su una rete nazionale su Rai 2 dovrebbero cancellare questo programma e le persone che sono state bombardate insultate, umiliate dovrebbero denunciare questo schifo perché è vero i contenuti pubblici sono pubblici però nessuno vi dà il diritto di attaccare la persona nel momento in cui si fanno le lotte contro il bullismo il body shaming e quant'altro è semplicemente vergognoso per cosa poi? per fare becera ironia perché quella non è ironia non è ironia è qualcosa di becero è qualcosa di becero e io mi aspetto da questo da questo programma di questo tipo tutto un sottobosco di insulti di umiliazioni sia di youtuber e instagramer e comunque gente che sta sui social network in modo inconsapevole sia degli invitati in studio perché c'è stata gente di youtuber instagramer che è andata in studio ed è stata umiliata umiliata addirittura ciccio gamer che è un ragazzo che fa video di gaming è stato picchiato tra virgolette cioè il mago forest gli ha dato una smanacciata sulla nuca che gli ha fatto la nuca rossa ma che esempio date? ma che esempio date? siete la rete nazionale noi paghiamo il canone è veramente vergognoso io volevo volevo mettere l'accento su questa cosa e dire la mia perché è vero io non sono nessuno sul tubo io faccio video a cavolo di cane non sono nessuno ma personalmente se mi capitasse una cosa del genere io denuncerei io direi le vie legali perché ok i contenuti sono pubblici ma nessuno vi dà il diritto e nessuno vi permette di insultare fare body shaming alle persone in quel modo perché non è corretto non è corretto cioè di ciccio gamer si è fatto ironia tra virgolette perché quella non è ironia sul suo peso ma lui era presente e poteva difendersi ma crocchetta che non è stata nemmeno avvisata e le hanno detto di tutto ma carlotta del canale le note del silenzio il suo video completamente estrapolato dal contesto io vi dico vergognatevi semplicemente vergognatevi perché nessuno vi dà il diritto di insultare di umiliare le persone ma come? si fanno tante lotte contro il bullismo il body shaming e poi in tv nazionale vanno queste cose ma non vi vergognate a meno un po' vi saluto vi ringrazio al prossimo video ciao ciao